Basta sfruttamento, fascismo e guerre, manifestazione nazionale contro il governo Meloni. Questi gli slogan sugli striscioni esibiti di fronte alla sede di Rai di Viale Mazzini a Roma. Queste le motivazioni del corteo previsto per il primo giugno in concomitanza con il grande evento di Fratelli d'Italia a Piazza del Popolo. Una manifestazione pacifica, spiegano i membri del comitato promotore, tra cui spiccano l'organizzazione Cambiare Rotta e l'unione sindacale di base che si oppone al lavoro povero e alle politiche attuate contro il popolo palestinese. Questa manifestazione, aggiungono gli esponenti di Cambiare Rotta, indica tutti i punti di rottura di un esecutivo che incarna l'essenza di una crescente indignazione. Il corteo partirà alle 14.30 da Piazza Vittorio e si concluderà a Porta Pia di fronte alla sede del Ministero del Vice Premier Matteo Salvini. Nello stesso giorno in cui decine di pullman carichi di manifestanti convergeranno sulla capitale, Giorgia Meloni sarà presente a Piazza del Popolo in occasione della chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno.